Il mare è il nostro, stop alle trivelle e questo è lo slogan con cui le organizzazioni provinciali di Confcommercio, Agi Pesca e Lega Pesca hanno formalizzato la propria adesione al Sì per il referendum del 17 aprile. Noi riteniamo che il nostro territorio debba passare da uno sviluppo del turismo, del mare, dell'agroalimentare, quindi è importante la difesa del mare, importantissima per quello che riguarda la nostra visione e non può passare il messaggio che si deve votare no solo perché bisogna difendere i posti di lavoro. Questo è un errore che abbiamo commesso in passato, lo continuiamo a fare ancora col discorso ILVA, ma non può esserci che a fronte del lavoro ci sia poi disastri ambientali. Questa storia deve finire, questa storia con forza deve finire, bisogna che questa gente capisca che bisogna difendere gli interessi di tutti e non gli interessi di pochi e questa gente la deve smettere di usare il territorio, di usare e mortificare un territorio a danno dell'intero mondo. Questa è la nostra posizione netta e chiara. Confcommercio sta alzando la voce sia sulla questione ambientale che si sta schierando anche col piano strategico sul turismo. Confcommercio, parlo da sei anni sotto la mia presidenza, ha deciso di cambiare rotta. Avevamo detto per noi l'agroalimentare e il turismo sono due fonti importantissime di sviluppo. Qualcuno non era convinto perché vedeva solo nella grande industria l'occupazione di massa. Anche i mitilicoltori votano sì al riferendum del 17 aprile. Certo che votiamo di sì perché noi viviamo dal mare e quindi vivendo dal mare dobbiamo difenderci il nostro mare, difenderci da alcune aggressioni che ci vengono già fatte dall'ILVA, dall'Industria. Ora ci si mette anche per le trivelle e quindi è ancora un'altra botta, questa volta forse direi mortale. Per questo motivo dal 9 al 15 aprile sono state organizzate una serie di iniziative per sensibilizzare al voto.